stiamo facendo il giro in parata ovviamente io sono in una bella porsche che poi c'è 911 carriera 4s benissimo e avanti si adesso è avanti a noi abbiamo questa macchina rossa sarana ferrari sicuramente la banda li sfottiamo agli amici vediamo un po come sono parecchie proprio oggi le macchine fare un giro di pista all'autodromo del levante questa bellissima giornata qui con il sole la vista è molto svolta si sente ovviamente per motivi di sicurezza ci sono i birilli perché comunque diciamocela tutta non è che è una gara questa è un momento di puro divertimento tanto